C'è un aspetto della vita amministrativa pubblica che è quella della trasparenza. Essere trasparenti, il palazzo di vetro, il comune, significa anche garanzia per i cittadini che pagano le tasse e partecipano al processo produttivo di un ente. Però ci sono delle nedambienze registrate al comune di Canichetti, per esempio i bilanci non vengono pubblicati. Questo è grave? Noi abbiamo delle disposizioni ben precise e quindi invitiamo e ha da tempo l'amministrazione affinché adempia agli obblighi del decreto legislativo 33 del 2013 sulla trasparenza e che pubblichi i bilanci perché alla data attuale nel portale risulta pubblicato l'ultimo bilancio comunale al 31-12-2016. Non sono pubblicati i bilanci previsionali 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Non sono pubblicati i bilanci consuntivi del 2018 e del 2017. Ora, quando si chiama la cittadinanza, le imprese, a una partecipazione alle spese pubbliche che viaggia intorno alla partecipazione dei cittadini in tasse, tributi, IMU, viaggia in oltre 18 milioni di euro e debita e cartelle addosso con gente che non ce la fa, quantomeno si chiede una trasparenza e un condividere una sorta di consultazione, di partecipazione pubblica. Qual è il disposto legislativo che prevede questo? È il decreto legislativo 33 del 2013 che prevede inoltre anche la pubblicazione mai fatta e non riscontrata dell'elenco dei beni immobili pubblici del comune. Cosa significa? Significa se abbiamo delle strutture in affitto, anche quelle da vendere, anche quelle da alienare? Noi abbiamo l'elenco dei beni pubblici che debbono riportare con gli eventuali canoni di locazione percepiti e la rappresentazione del miglior uso che si fa. Noi abbiamo anche, perché dato che il comune si parla di predissesto, di crisi, di vide seguito, se va a redigere un piano di alienazione, come sembra avere fatto, di beni pubblici, un piano di vendita dei beni pubblici, questo deve essere reso pubblico in un elenco alla cittadinanza. E deve essere reso pubblico per avviare un processo di consultazione sulle migliori determine da fare in merito ai beni pubblici. C'è un altro decreto legislativo, il decreto legislativo 133 del 2008, che recita ben preciso. I beni pubblici sono beni che debbono essere destinati, per previsione di legge, a finalità sociali, sportive e culturali. Sanitarie, ricreative, centri diurni, strutture sportive, l'abbandono di questi beni o il prestarli alla vendita senza un'adeguata valorizzazione, perché lo Stato prevede che debba farsi un'adeguata valorizzazione, ci sono dei metodi anche, è grave responsabilità, è grave responsabilità pubblica, è mancanza di diligenza dell'amministrazione. Ora, noi chiediamo cortesemente, facendo parte di questa comunità, che è notevolmente dissanguata, economicamente, finanziariamente, senza prospettive di lavoro, quando al Comune incombono anche lo svolgimento di politiche attive sul lavoro, creare le condizioni per promuovere e sviluppare il lavoro, giovani e anche meno giovani che a 50 anni si trovano senza lavoro. Il Comune deve aprirsi. Non è una casa propria, ma è una casa di tutti. E chiediamo ampia democrazia.